L'editoria italiana è oggi la quarta editoria per dimensione in Europa e la sesta nel mondo. Il 2023 si è chiuso con un giro d'affari di 3,439 miliardi, stabile rispetto all'anno precedente. I primi dati del 2024, riferiti al solo mercato trade che riguarda saggistica e narrativa, segnano tuttavia una fase di stagnazione del comparto, con le vendite a quota 675,8 milioni, confermata la buona capacità di imporsi all'estero, con 7.838 diritti di traduzione venduti, stabili rispetto all'anno precedente e quadruplicati rispetto al 2021. Sono questi i dati principali del rapporto dell'Associazione Italiana Editori. Le copie vendute nei primi sei mesi sono state 46,1 milioni, in calo di 900 mila unità rispetto all'anno precedente. Le librerie fisiche raggiungono il 53,7% delle vendite e continuano il recupero avviato dopo la crisi del 2020, quando pesavano per il 49,1%. Ma si compra anche online per il 41,7%, mentre la grande distribuzione pesa solo per il 4,6%. Se si guarda i generi, confermato il trend positivo della narrativa, soprattutto quella di autori italiani, che cresce sullo stesso periodo dell'anno precedente del 5,4% e di quella straniera con un più 3,1%. Registrano un segno meno i ragazzi, meno 2,8%, la saggistica generale, meno 3%, quella specialistica, meno 1,6% e i fumetti, meno 4,8%. I titoli pubblicati ogni anno sono triplicati e nel 2023 sono stati 85.192. Il mercato è cresciuto al netto dell'inflazione del 108%. Le copie di libri vendute, sempre per il mercato trade, hanno registrato un incremento del 124% a 112 milioni. Le copie di libri vendute, sempre per il mercato fare l'inflazione del 10.000. Qui per il Nordicato nel 2025, detto che per gli altri ottimi inter vienti partiti, Le copie di libri vendute, sempre per ilкольку di libri venduti. Grazie a tutti.